Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua, come sempre nell'usuale disordine della mia libreria. E mai come questa volta la bandiera da combattimento giapponese ci sta bene perché questa sera parliamo di questo. Questa bellissima foto tratta dal Legendary Warbirds di Luigino Cagliaro ci mostra il Mitsubishi A6M0, lo ZEKE, il più famoso aereo da combattimento giapponese della seconda guerra mondiale. Un aereo famosissimo che ha rappresentato il più importante ed efficace velivolo da caccia dell'industria bellica giapponese che nel corso dei quattro anni di guerra ha servito sia nei reparti di terra sia nei reparti imbarcati dell'aviazione di marina partecipando a tutte le principali battaglie aeree e aeronavali del Pacifico. Nei primi mesi di guerra la sua superiorità come caccia era assolutamente indiscussa e indiscutibile e i successi del Giappone furono dovuti proprio a questo anche e soprattutto a questo eccezionale aereo. Un aereo leggero, agilissimo, ben armato dalla straordinaria autonomia, un aereo che era se vogliamo una spanna sopra tutto quello che potevano schierargli contro gli americani e anche gli inglesi. Nel corso del conflitto poi ovviamente lo zero fu surclassato nonostante i continui aggiornamenti, le continue versioni e i continui miglioramenti a cui fu sottoposto. Però l'eccezionale autonomia, la straordinaria maneggevolezza e le ottime prestazioni generali non riuscivano più nel corso della guerra a coprire le magagne originali del progetto, cioè quali per esempio la scarsissima protezione per il pilota e la mancanza di serbatoi autostagnanti che causavano dei grossi problemi, cioè praticamente bastava una pallottola da 7,62 per forare un serbatoio e soprattutto per ridurre lo zero ad una palla di fuoco e non è molto carino se vogliamo. Dicevo, questi problemi furono risolti in parte con l'introduzione in servizio nella seconda metà del 1943 della versione A6M5. Poi lo zero alla fine della guerra fu usato anche e soprattutto come aereo kamikaze. Eccone qua un'altra foto, come vedete le stupende immagini di Luigino Cagliaro rendono bene l'idea di quello che era questo eccezionale aereo. Ripeto, un aereo dalla maneggiovolezza straordinaria, un aereo eccezionale indubbiamente, ma che invecchiò rapidamente nel corso della guerra e che nel 1943-1944 era oramai obsoleto e non più all'altezza del compito, tant'è che gli Hellcat e i corsi americani ne fecero bellamente strage quasi impuniti. Ma sentiamo che cosa dicevano i servizi segreti americani nel dicembre 1942 a proposito dello zero. Allora, per sopravanzare lo zero bisogna mantenere una velocità superiore ai 480 km orari. Non bisogna mai ingaggiare un combattimento manovrato con uno zero. Non bisogna mai impegnarsi in un combattimento sul piano verticale, poiché al diminuire della velocità lo zero è più manovrabile e può agevolmente completare un looping. Insomma, un aereo tutt'altro che da prendere sotto gamba. Ma sentiamo anche che cosa ci dice il grande pilota Marion Carle che combatté a Midway contro gli zero. Diceva che lo zero era veloce come il Wildcat ma aveva una capacità di salita e una manovrabilità decisamente superiori. Insomma, lo zero era più o meno come una BMX, era agile come una bicicletta. Era un aereo veloce, ben armato, dalla grande autonomia, dall'ottima autonomia e decisamente in mano agli addestratissimi piloti della marina nipponica era decisamente un'arma micidiale. Però aveva i suoi punti deboli, la grande leggerezza che gli impediva di tenere dietro agli aerei americani quando si buttavano in picchiata, una struttura non dico delicata ma talmente tanto leggera che si disintegrava praticamente nelle picchiate troppo ripide e soprattutto la mancanza di protezione per serbatoi e piloti che costò grosse perdite agli zero durante praticamente tutta la guerra. Poi, ripeto, quando gli americani iniziarono a prendere le misure già con i Wildcat, già con i P-40 e lì, insomma, lo zero cominciò a mostrare la corda, cominciò a mostrare i suoi limiti perché, allora, il discorso è semplicemente questo. Quando gli zero affrontarono gli Spitfire o gli Hurricane, gli inglesi commisero l'errore di affrontarli come avevano affrontato i tedeschi durante la battaglia d'Inghilterra, in combattimento manovrato, in duello e, logicamente, con un aereo che aveva prestazioni manovriere straordinarie, eccezionali e superiori come lo zero questo era semplicemente un suicidio, anche se sotto il culo c'avevi lo Spitfire e questo qui. Avevano ragione gli americani, soprattutto le tigri volanti del generale Chinnolt ne ho già parlato in altra occasione la tattica era decisamente semplice raggiungere una quota superiore a quella delle formazioni di zero che attaccavano buttarsi in picchiata verticale sopra gli zero sparare con tutto quello che avevi e filarsela in picchiata a tutta velocità lo zero, se avesse seguito in picchiata quel ferro da stiro del P40 si sarebbe letteralmente disintegrato e alcuni fecero quella fine lì l'intelligenza delle tattiche americane riuscì a sopperire all'inferiorità delle macchine perché insomma, diciamoci la verità la tattica di attaccare in picchiata le formazioni di aerei giapponesi con un aereo come il P40 voleva dire praticamente come acciaccare una lattina di Coca-Cola con un'incudine da 50 kg perché l'effetto più o meno era quello cioè gli americani impararono subito che affrontare in combattimento manovrato con un P40 lo zero era un suicidio e quindi si inventarono questa tattica che era l'unica che gli consentiva di tenere testa a un mezzo tanto superiore lo zero purtroppo non riuscì mai cioè a trovare un successore perché ricordiamoci lo A7M Repu che avrebbe dovuto sostituirlo fu costruito sì e no in una decina di esemplari a causa delle continue e direi anche deliranti richieste della marina giapponese che imponeva continue modifiche alle specifiche di costruzione ma questo è un altro discorso lo zero servì nella marina giapponese per tutta la guerra sia nei reparti imbarcati sia nei reparti a terra e fu il cavallo da tiro dei reparti da caccia della marina gli Shiden i Kawanishi Shiden che li affiancarono per i reparti a terra che li affiancarono a partire dal 1943 erano dei buoni aerei ma non furono come dire mai molto compresi dai piloti giapponesi i piloti giapponesi erano un po' come i nostri fissati con l'acrobazia fissati per loro il combattimento aereo era solo soltanto e solamente il dogfight a bassa quota e a bassa velocità e se qualche americano o inglese fosse stato talmente tanto stupido da affrontare su quel terreno corser o non corser elcat o non elcat spitfire o non spitfire era destinato a fare una gran brutta fine ok però come dire nel corso del conflitto i giapponesi non modificarono mai come i piloti della regia aeronautica non modificarono mai le loro tattiche non furono mai in grado di adattare il loro modo di combattere alle nuove esigenze della guerra continuavano ad avere un approccio al combattimento aereo da lupo solitario non avevano tattiche non avevano come dire formazioni cioè attaccavano e basta lupi solitari che attaccavano e che logicamente venivano letteralmente fatti a pezzi cioè ricordiamoci la grande caccia al tacchino delle Marianne eh dove praticamente le forze aeronavali giapponesi insomma i reparti aerei giapponesi furono letteralmente annientati uno dietro l'altro perché perché i giapponesi combattevano ancora come combattevano nel 1940 contro i cino nazionalisti e i russi nel teatro nel teatro cinese gli americani avevano imparato la lezione gli americani avevano imparato come fare ad affrontare gli Zero e soprattutto avevano aerei come gli Hellcat e i Corsair che il povero Zero se lo mangiavano letteralmente crudo detta com'è ci facevano il sushi in pratica con lo Zero lo Hellcat e il Corsair lo Zero ripeto è un aereo mitico della seconda guerra mondiale nei primi mesi di guerra era come dire una garanzia assoluta per i piloti perché era quanto di meglio ci fosse nell'area del Pacifico come caccia i problemi vennero fuori quando l'aereo invecchiò non si fu in grado di trovargli un degno sostituto le nuove versioni pur se migliorate pur dalle maggiori prestazioni pur dal miglior armamento pur con una certa protezione quarazzatura e serbatoi e protezione ai serbatoi diciamo che non furono mai all'altezza degli aerei dei nuovi aerei in servizio messi in servizio dagli americani siamo sinceri un uno zero mettere uno zero di fronte a un Mustang di fronte a un Corsair di fronte a uno Hellcat di fronte a un P38 e significava semplicemente che il pilota giapponese avrebbe fatto una brutta fine e poi c'entrano anche oltre l'obsolescenza della macchina c'entra anche come dire la carenza di piloti addestrati perché dopo la catastrofe di Midway i giapponesi non riuscirono più a ripristinare a recuperare le perdite di piloti inflitte dagli americani durante la battaglia di Midway la perdita di quelle decine di validissimi e straordinari avviatori di marina fu un colpo mortale per l'aviazione della marina imperiale nipponica perché nella loro come dire forma mentale inquadrata gerarchica e se vogliamo come dire verticistica non ebbero mai l'elasticità mentale di capire che i piloti erano merce preziosa e li mandavano praticamente al sacrificio cioè perdendo così numerosi piloti validi ben addestrati e ben preparati e alla fine della guerra i giovani aviatori nipponici erano poco più che ragazzini sapevano a malapena tenerlo sapevano a malapena come dire atterrarci e decollarci con lo zero perché non erano più i superman perché i piloti della marina giapponese all'inizio della seconda guerra mondiale erano indubbiamente tra i migliori del mondo anzi forse erano i migliori aviatori del mondo per capacità coraggio dedizione abilità addestramento erano probabilmente i migliori del mondo l'addestramento Saburo Sakai nella sua autobiografia che ho recensito l'anno scorso Saburo Sakai parla ampiamente della durezza dell'addestramento a cui venivano sottoposti i piloti della marina imperiale e soprattutto ci spiega insomma ci spiega ampiamente come venivano preparati le durezze dell'addestramento con cui venivano preparati i piloti della marina imperiale giapponese per pilotare lo Zero per pilotare questo aereo insomma ripeto lo Zero fu un aereo superlativo ma che invecchiò decisamente male che dopo il 1943 non fu praticamente mai mai più all'altezza degli avversari angolo-americani e non fu praticamente più non fu praticamente più in grado di difendere i cieli del Giappone lo spauracchio dello Zero durò praticamente fino al 1941 e ripeto gli americani inventarono l'unico sistema con cui un aereo occidentale poteva tirare giù uno zero fare quota picchiare verticalmente sparare con tutto quello che hai ai bersagli che ti si trovano davanti filarsela a tutto gas rifare quota e tentare un secondo passaggio questo era l'unico sistema che potevano utilizzare i piloti americani e inglesi contro l'Izero ripeto quando i veterani della battaglia d'Inghilterra affrontarono gli zero giapponesi nel sud-est asiatico e li affrontarono con i sistemi con cui avevano vinto la battaglia d'Inghilterra in Europa subirono perdite terrificanti gli inglesi nonostante i piloti fossero dei veterani temprati e con diversi abbattimenti di aerei tedeschi alle spalle perché semplicemente il caccia della Mitsubishi lo zero era talmente agile talmente maneggevole talmente manovrabile che girava intorno agli Spitfire agli Hurricane ai P40 ai P39 come una insomma come una bicicletta e ne tirarono giù tanti perché semplicemente i giapponesi conoscevano il loro mezzo i giapponesi erano piloti eccezionali e avevano una macchina eccezionale quando poi gli americani presero le misure allo zero fu una catastrofe per i piloti da caccia della marina sugli zero perché semplicemente vennero fatti a pezzi tutto qui quindi ripeto signori una leggenda senza sé e senza ma dell'aviazione un aereo mitico un aereo straordinario un aereo che ha fatto veramente la storia dell'aviazione progettato da Jiro Horikoshi il Mitsubishi A6M0 l'arma che consentì gli straordinari successi giapponesi nei primi sei mesi della guerra del pacifico poi come ben sappiamo a Midway gli americani ebbero fortuna ebbero la grande abilità di capire come affrontare i giapponesi ebbero la furbizia di studiare nuove tattiche cosa che i giapponesi non riuscirono mai a fare signori io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e nuovamente arrivederci al mio prossimo video ci vediamo gente ciao